La nascita di nuove imprese tecnologiche a Milano è il settore fra i più vivaci e longevi d'Italia, come conferma l'incubatore di start-up innovative dell'Università Bocconi. Cinque anni e molte storie di successo da raccontare. È l'incubatore Speed Me Up, promosso da Bocconi e Camere di Commercio. Dal 2013 seleziona giovani con idee imprenditoriali e da loro gli strumenti per creare delle vere aziende. Su 1400 progetti presentati, 80 si sono trasformati in start-up, di queste 60 sono ancora in attività. Assistenza e finanziamenti sono la chiave di tutto. Loro ci hanno dato la fiducia per renderla concreta perché da soli eravamo un po' titubanti, mentre se anche Bocconi credi in te perché non buttarci sì al 100%. Per crescere abbiamo bisogno di fare tanta ricerca ed è per questo che abbiamo ricevuto un importante finanziamento da Invitalia che ci ha concesso di investire nei prossimi due anni 700.000 euro in ricerca e sviluppo. Eppure non è tutto semplice per le società innovative perché gli investimenti in capitale di rischio in Italia rimangono bassi. La strada è quella di non inseguire il mito americano dell'exit, ossia le vendite milionarie delle imprese a grandi aziende. Quello che cerchiamo di far capire alle start-up non è di avere il mito dell'exit, ma invece la necessità e l'onio di dover fatturare, crescere in ricchezza sia per loro che per i loro dipendenti. Insegnargli a fare delle società sane e soprattutto solide. Per entrare a Speed Me Up bisogna partecipare a un bando. Il prossimo scade il 30 marzo. Grazie. Grazie.